Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Grazie, buonasera. Buon ascolto. Buonasera a voi tutti. La fila di musica, bisogna chiedervi, è lieta di accogliervi a questo concerto di fine staccia. Il nostro repertorio spazia, come sapete, dalla musica tradizionale per banda alla musica classica, moderna, jazz, ma come da tradizione, quest'oggi, apriremo con Veronica una caratteristica marcia militare. Dirige il maestro Giuseppe Pugliese. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.